Sopravvissuti Ascolti TV quarta puntata ieri sera lunedì 24 ottobre 2022. Quanto ha fatto la nuova fiction di Rai 1? Dati Audit e Lesher ieri sera, lunedì 24 ottobre 2022, è andata in onda la quarta puntata di Sopravvissuti, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti TV? Di seguito tutti i dati. Leggi anche, GF VIP eliminato, chi è uscito ieri sera 24 ottobre 2022? Percentuali Ascolti TV ieri sera 24 ottobre, quanto ha fatto la quarta puntata di Sopravvissuti su Rai 1? I dati verranno aggiornati dopo le 10. Sopravvissuti, nuova fiction Rai 1, quando va in onda? La fiction Sopravvissuti andrà in onda con cadenza settimanale ogni lunedì in prima serata su Rai 1. Sopravvissuti, quante puntate sono? Le puntate previste per la prima stagione di Sopravvissuti in onda da lunedì 3 ottobre sono complessivamente 12 divise in 6 prime serate. Sopravvissuti cast Lino Guanciale interpreta Luca Giuliani Luca Biagini interpreta Armando Leone Barbara Bobulova interpreta Giulia Morena Steficelma interpreta Silvi Giuliani Maddalena Crippa interpreta Bianca Marcucci Nicolà Maupas interpreta Roberto Vincenzo Ferrera interpreta Tano Russo Florian Fitz interpreta Frank Berger Giacomo Giorgio interpreta Lorenzo Bonanno Pia Lanciotti interpreta Anita Clementi Sofip Fenigstorff interpreta Alex Desiree Popper interpreta Lara Maier Elena Radonici interpreta Titti Morena Raffaella Rea interpreta Paola Russo Carmine Recano interpreta Ivan De Santis Fausto Maria Sciarappa interpreta Stefano Bonanno Camilla Semino Favro interpreta Marta Silvestri Manda Turee interpreta Malika Alessio Vassallo interpreta Gabriele Clementi Adele Wisms interpreta Lea Dumont Margherita Aresti interpreta Maia Giuliano Luca Castellano interpreta Nino Berger Paola Benocci interpreta Sofia Morelli Nello Mascia interpreta Emanuele Maier Domenico Luca interpreta Matteo Maier Cosa c'è stasera in tv su Rai 1 e Canale 5? Lo scontro a colpi di ascolti tv di stasera, invece, vedrà la fiction Morgan Detective Geniale su Rai 1 e la partita Benfica vs Juventus su Canale 5. Non segui ancora su Instagram? Resta aggiornato con le novità sui programmi tv, gli ascolti, le curiosità sulla fiction sopravvissuti, dove vedere la replica della quarta puntata e sulla programmazione di Rai 1 cliccando qui.